Non risulta che altri soggetti diversi da ANAS, precedentemente al sequestro, abbiano effettuato sul viadotto Puleto alcuna prova di significato ingegneristico, quali ad esempio prove sperimentali, distruttive o non distruttive, prelievi di campioni idonei da analizzare in laboratorio, saggi o misurazioni. Inizia così una nota stampa di ANAS giunta alla nostra redazione che commenta le notizie in merito ai rilievi sul viadotto anche mediante l'uso di droni. I rilievi fotografici, leggiamo nella nota, realizzati con l'utilizzo di droni, forniscono informazioni dello stato di degrado superficiale delle opere, ma devono essere necessariamente integrate da indagini e prove ingegneristiche su cui basare il calcolo strutturale e l'analisi tensionale dell'opera necessaria a determinare le condizioni di sicurezza strutturale del viadotto. Attività questa che ANAS ha condotto fin dal 2010 attraverso una specifica campagna di indagini sulla qualità e l'effettiva resistenza dei materiali. Da queste indagini non risulta, ribadisce ANAS, alcuna criticità per la sicurezza della circolazione e si è invece evidenziata l'opportunità di progettare, finanziare e appaltare un intervento di risanamento del viadotto Puleto. Indagini, precisa ANAS, effettuate anche immediatamente dopo la notifica del provvedimento di sequestro e anche in questo caso, leggiamo testualmente, è stato riscontrato il soddisfacimento dei coefficienti di sicurezza a pieno carico. Un'analisi conclude la nota ampiamente corroborata anche dal comportamento dei numerosi viadotti colpiti dal sisma nel 2016, non solo il Puleto ma anche il Tevere 4, sui quali è stato possibile osservare i meccanismi di danneggiamento e i cinematismi conseguenti. ANAS si rende infine disponibile a fornire ogni possibile contributo e, se necessario, anche ad un confronto tecnico.